Amiche ed amici, bentornati nella nostra rubrica di odontoiatria. Sono il dottor Vincenzo Lamico e quest'oggi affronteremo con voi la diagnosi ed il trattamento della parodontite. Per parodontite si intende una patologia di tipo infiammatorio che va ad attaccare i tessuti di sostegno del dente. Il parodonto è infatti formato dalla gengiva, dai legamenti, dall'osso e dal cemento che ci serve da aggiunzione tra l'osso e il dente, così come i legamenti. Quando questo tessuto si infiamma, l'osso subisce un riassorbimento. Il riassorbimento ci dà una perdita di sostegno del dente. Ecco che i denti iniziano a muoversi, ecco che i denti iniziano a cambiare posizione. Le parodontite sono quasi sempre reversibili. Se ciò non avviene, il dente è destinato a cadere. In passato non è mai stata data molta importanza alla prevenzione, quindi ai richiami periodici, ai controlli e alle igiene orali domiciliari fatte bene e alla poltrona. Perché? Perché era luogo comune pensare che i denti avessero una vita minore della persona e di conseguenza si pensava che a un certo punto il ricorso alla protesi sarebbe stato inevitabile. Oggi sappiamo che non è più così. Sappiamo che anche le moderne tecnologie, come ad esempio l'implantologia, non ci aiutano del tutto. Perché in un paziente che ha scarsa cura di se stesso, un impianto durerà quanto un dente parodontale. Ecco che i trattamenti alla poltrona e le corrette istruzioni di igiene orali sono fondamentali. Seppur non neghiamo una correlazione genetica, quindi un tipo di gengiva soggetto maggiormente ad infiammazioni rispetto ad un altro, è pur vero che non esiste alcuna forma di parodontite senza una carenza di igiene orale. Si escludono delle forme aggressive ed infantili, che per fortuna però riguardano una minoranza dei casi. Neanche la gravidanza ha giustificazioni perché, ok, la flora batterica cambia in gravidanza, ma se la donna ha dei controlli periodici e delle pulizie periodiche può affrontare la gestazione senza il minimo problema a livello gengivale. La diagnosi di parodontite si effettua sia con la visita intraorale sia con i reperti radiologici. Dalla visita intraorale muniti di una sonda, quindi uno specillo che ha una piccola pallina in punta, andiamo a misurare la perdita di attacco del dente e con la radiografia andiamo a vedere in realtà quanto osso è stato perso e grazie a questo riusciamo a fare una diagnosi che ci dirà poi la gravità della situazione. Se è pur vero che una infiammazione lieve definita gengivide è sempre risolvibile, è purtroppo vero che una parodontite non ci riderà mai il tessuto perso. L'obiettivo del professionista, quindi dell'odonteatra e dell'igienista, è quello di limitare i danni, fermare la patologia e impedire che ci sia ulteriore distruzione di tessuto biologico. Un grosso aiuto ci viene dato oggi dall'assi radiodi che non sostituisce l'abblatore o il curettage, cioè quella manovra meccanica di rimozione del tartaro che viene a crearsi sotto gengiva. Permette però la possibilità di eliminare il tessuto infiammato che si trova nella tasca del dente. La tasca del dente è lo spazio che si forma tra il dente e la gengiva ed è un'ampiezza che non è più biologica, quindi che non è più fisiologica, non è più normale perché ha superato i 2 mm. Come possiamo vedere in questo video illustrativo, il laser ha la capacità di cauterizzare le pareti, quindi di eliminare il tessuto infiammatorio creando una specie di cicatrice che va a distruggere i batteri e che permetterà poi dopo l'eliminazione del tartaro di ricreare un attacco che però non sarà più osseo ma epiteliale. Che significa? Significa che il dente non riavrà l'osso che ha perso, avrà però l'adesione di nuovo con la gengiva. Questo ci limiterà la sensibilità, ci limiterà il sanguinamento e soprattutto ci limiterà i danni perché non avremo ulteriori perdite di tessuto. Il laser può essere abbinato a dei gel parodontali che hanno la capacità di essere attivati. È fondamentale ricordare che se non c'è una collaborazione totale del paziente tutto quello che faremo come operatori sarà vano poiché il paziente dovrà essere accuratamente istruito sulle manovre di generale più adeguata da rispettare scrupolosamente a casa. Possiamo affermare quindi che la parodontite, meglio conosciuta come piorrea dai nostri nonni, è oggi una patologia totalmente gestibile, prevedibile e guaribile solo se viene affrontata in tempo con i giusti mezzi e con la giusta collaborazione. Dal dottor Vincenzo D'Amico è tutto, grazie per avermi seguito, appuntamento alla prossima puntata. Grazie a tutti. Grazie a tutti.